Aperto nel 1979 e ristrutturato completamente nel 2011 dopo l'incendio doloso, il ristorante self-service Pesce Azzurro è sicuramente un pezzo della storia fanese, un luogo di ritrovo, di tradizioni e tipicità locali. Dopo decenni di piena attività però, le varie emergenze di natura sanitaria ed economica che si sono susseguite negli ultimi due anni non hanno risparmiato la catena che è rimasta chiusa a causa del caro bollette. La notizia era stata data nel mese di ottobre dall'amministratore unico Marco Pezzolesi che oggi abbiamo incontrato in vista della riapertura. Per l'occasione i locali saranno addobbati con diverse decorazioni natalizie e non mancheranno delle piacevoli sorprese per i più piccoli. Presidente, prima la pandemia, poi il caro bollette e l'inflazione. Che periodo avete passato? Sì, sono passati due anni, anche tre, molto molto difficili. Noi abbiamo chiuso adesso per un mese nel mese di novembre e anzi ne approfitto per tranquillizzare tutti i telespettatori di Fanno TV e la nostra clientela che è un periodo di chiusura limitato ma ritorneremo dal 3 di dicembre e apriremo tutti i festivi e prefestivi come abbiamo fatto solitamente da sempre, tutti gli anni. Quest'anno abbiamo pensato di fare questa breve pausa proprio per il caro energia e siccome novembre è solitamente il mese in cui si lavora di meno abbiamo operato questa chiusura. Però contiamo veramente di non chiudere mai più adesso, seppur il sacrificio è enorme perché il caro energia ha inciso e sta incidendo in maniera notevole nelle nostre attività. Si pensi che nel 2021 abbiamo sostenuto complessivamente costi per circa 400 mila euro in tutti i nostri punti ma nel 2022 nonostante che abbiamo chiuso purtroppo anche dei punti come San Benedetto e Milano Marittima supereremo i 700 mila euro quindi pressoché un raddoppio rispetto al passato. Confidiamo, ha proseguito Pezzonesi, che ci possa essere una stabilizzazione dei prezzi. Solo a Fanno ha ricordato nel mese di agosto è arrivata una bolletta da 55 mila euro. Per cui dai 50 centesimi adesso si va attestando sulla metà circa 25 centesimi che non è ovviamente il prezzo che avevamo alcuni anni fa perché si parlava di 8-10 centesimi. Per cui la situazione è sempre abbastanza critica, tra l'altro questo poi comporterà anche degli aumenti a cascata sulle materie prime. Però noi come Pesce Azzurro cercheremo di fare il possibile, di sacrificarci per non aumentare ulteriormente il prezzo quindi cercheremo di mantenere i 15 euro, ahimè che abbiamo dovuto aumentare nel corso del 2022, erodendo sicuramente i margini per l'impresa che non ci sono ovviamente da tre anni perché abbiamo purtroppo avuto delle perdite nell'ordine di centinaia, centinaia di migliaia d'euro sia nel 2020 quanto nel 2021 che grazie comunque alla fiducia che gli istituti di credito in pool ci hanno dato riusciamo a resistere e confido che riusciremo a resistere. Rimangono poi assicurato il Presidente i quattro punti self service a Rimini, Cattolica, Fano e Senigallia, non resisterà invece il ristorante galleggiante Scimitar, il suo destino non è ancora ben definito, infatti al momento c'è un interesse da parte del Ministero della Cultura che sta valutando se sia da considerare un bene di valore culturale, visto che faceva parte della flotta di Sua Maestà, la regina d'Inghilterra. Può essere riportato a quell'epoca c'è rimasta solo una parte del guscio quindi il resto è stato tutto ricostruito da noi nel 2006 e quindi però ecco ci sono insomma delle normative, delle norme di legge che ci impongono al momento di non fare altro, di stare fermi, valutare insomma se può avere veramente questo valore per la comunità. State lavorando anche diversi progetti che non sveleremo di certo oggi però intanto sabato si riparte. Sì, sabato ripartiamo come dicevo e ovviamente questa situazione critica di tre anni ci ha portato a riflettere, a ragionare su come reinventare qualcosa insomma perché così come siamo strutturati sono insomma delle attività di grandi dimensioni con dei costi tant'è che stiamo valutando anche come ridurre questi attraverso pannelli fotovoltaici, attraverso varie soluzioni che stiamo valutando ma stiamo pensando anche un format diverso da poter estendere in franchising in altre parti d'Italia ma di dimensioni più ridotte che stiamo appunto studiando che ancora non ci sentiamo di rivelare.